ed eccoci qua per una nuova recensione vincenzo capuano la pizzeria con le forbici dorate trovi le forbici accanto alla forchetta al coltello e ti serviranno per tagliare la pizza quella pizza contemporanea con impasto soffice morbida e con ingredienti da serie a il locale è piccolo ma accogliente e il personale è veramente gentile e preparato un piccolo inconveniente sul cornicione di una delle pizze che abbiamo assaggiato ma niente di che la location piazza trieste trento piazza per briscito via toledo il maschio angioino dovete solo accomodarvi e assaggiare le prelibatezze di vincenzo capuano che dire alla prossima per una nuova recensione commentate e fateci sapere la vostra opinione ciao